Ciao, per questo allenamento avrai bisogno di due cuscini. Gli esercizi di oggi sono mirati a rafforzare il core, ovvero il centro del nostro corpo, con aggiunta di esercizi per le gambe, specialmente per gli aduttori, detti anche interno coscia. Primo esercizio, squat in isometria. Stringi il cuscino tra le ginocchia per intensificare il lavoro degli aduttori. Stai lavorando anche glutei e quadricipiti. Secondo esercizio, ponte glutei. Anche qui, stringi il cuscino tra le ginocchia per gli aduttori e contrai i glutei in fase di salita. Grazie! Guardare le ginocchia per il prospettorio è importante per gli aduttori e посмотрare Terzo esercizio, crunch con gambe a 90 gradi. Contrai gli addominali e ispira quando sali. Quarto esercizio, divaricamento delle gambe con busto sollevato. Tieni le gambe tese e concentrati nella fase di risalita per lavorare con gli aduttori. Tenendo le spalle sollevate coinvolgiamo anche gli addominali. Quinto esercizio, crunch da seduti. Questo esercizio richiede un gran controllo. Stabilizza il core e fai passare il cuscino in senso orario e anti-orario. C'è stato un genere di risale. Esercizio. Lombari. In posizione supina, con le braccia sopra la testa. Contrai i glutei e solleva petto e braccia. Espira quando sali. Settimo e ultimo esercizio. Rimani in posizione supina, contrai i glutei ed esegui delle piccole pulsazioni verso l'alto, con le ginocchia aperte a diamante. Ora ripeti l'intera sequenza un'altra volta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.